Cercare si cerca quello che si perde nella vita normale, cioè la pace, la tranquillità, Dio, si perde Dio. Quello che si trova, a volte si ritrova. Un posto dove trovare silenzio, dove trovare pace, ma soprattutto dove ritrovarsi sulle orme di San Francesco di Assisi. Sono molti i pellegrini che in occasione di queste festività pasquali hanno deciso di visitare il santuario francescano della Verna. Sono molto legato a questo posto perché sull'esempio di Francesco il potersi raccogliere un posto santo come questo è qualcosa che rinvigorisce. Ci sono diversi posti in mezzo alla natura, questo è uno dove c'è in pratica una energia molto particolare, al di là della credenza che possa avere uno. È come se in certi punti della natura lei faccia ascoltare il suo cuore, questo è uno di quelli. È il vero spirito di Francesco, secondo me. È semplice, è umile, nel contatto con la natura, con la durezza della natura anche. E quindi la ricerca di essere il più vicino possibile alla natura è Dio nelle cose semplici. Spero che dopo questa Pasqua magari si trovi più serenità, più pace, più anche gioia nel vivere, che non è facile, però bisogna sperare anche in questa grazia. Grazie.